Operare una puntuale ricognizione sulle reali condizioni di sicurezza e vivibilità del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica gestito dalle quattro aziende regionali territoriali per l'edilizia Arte, sulla base delle numerose segnalazioni arrivate dall'utenza. E' questo l'obiettivo dell'incontro convocato domani alle 10.30 dall'assessore regionale all'urbanistica all'edilizia Marco Scaiola negli uffici di Piazza De Ferrari. Una riunione in cui sono stati invitati tutti e quattro gli amministratori unici delle Arte Liguri per affrontare il tema della messa in sicurezza delle abitazioni di edilizia popolare. Gli amministratori sono stati chiamati dall'assessore a fornire tutti i dati necessari a completare un quadro esaustivo della situazione di ogni provincia. L'assessore Scaiola ha chiesto a ognuno un'analisi circostanziata di tutti gli interventi che sono stati fatti negli ultimi 12 mesi. Marco Scaiola ha evidenziato di aver voluto indire questa riunione per in quanto la sicurezza dei cittadini è di primaria importanza e per verificare di persona la situazione.